L'enigmatica Mona Lisa continua a celarsi dietro ai suoi misteri e se il paesaggio rappresentato alle spalle della dama fino ad oggi era stato identificato con quello di Ponte Buriano, c'è chi adesso è pronta a smentire la tesi sostenuta per anni e valorata da numerose ricerche dallo studioso Carlo Starnazzi. La nuova collocazione geografica proposta dalla ricercatrice Carla Glory sarebbe Bobbio, un piccolo comune emiliano, e il ponte alle spalle della Mona Lisa, Ponte Gobbo. Ovviamente c'è chi non accetta così facilmente questa nuova ricostruzione, ribadendo fermamente la presenza del Ponte Aretino alle spalle della Gioconda. È una ipotesi fondata quella su una mi par forzata ricostruzione in 3D di un paesaggio, quello del fiume Trebbia presso Bobbio, quindi nel Piacentino, sul quale non abbiamo documentazione che testimoni un passaggio, una frequentazione da parte di Leonardo, non uno schizzo, non un disegno, non un appunto. Per il nostro Ponte Aburiano disponiamo invece di ben due schizzi sicuri, uno è appunto lo schizzo preparatorio per la mappa della Valdichiana e la mappa della Valdichiana, nelle quali Leonardo ha raffigurato il Ponte Aburiano. E poi la certezza del passaggio di Leonardo in Arezzo nel giugno del 1502, l'anno della ribellione di Arezzo contro Firenze, quindi un paesaggio che Leonardo ha frequentato e conosciuto, grazie alla cartografia noi possiamo affermarlo con certezza. Leonardo inizia a lavorare a Mona Lisa nel 1503 e fino al 1508 Leonardo è in Toscana, quindi la gioconda è un prodotto degli anni toscani di Leonardo da Vinci. Le balze o i calanchi che costellano lo sfondo di Mona Lisa sono quelle del Valdarno Superiore, tra Arezzo e Firenze, che Leonardo ha studiato perché abbiamo fogli importanti del codice Hammer, è un bellissimo disegno al gabinetto di segni e stampe degli uffizi, quindi un patrimonio cartografico e iconografico molto forte che conferma queste notizie. E poi il dato storico, ripeto, che è fondamentale, altrimenti si rischia di costruire ipotesi letterarie più che storiografiche.